Martelli in corsia centrale ai categoria del duemila e quindici è stata argento nei cinquanta farfalla quindi specialista di questa gara ottima interprete della velocità già una lunghezza su tutte al passaggio dei cinquanta metri vediamo il passaggio il crono ventinove zero due velocissimo con la Vangie e la Vettoretti Maddalena in seconda e terza posizione sono alla partenza intanto per la quarta ed ultima batteria Anna Chiara Zanette Arcatim in uno Alessandra Massimo Veneto Banca Montebelluna in due Federica Pozzobon Rosa Blu in corsia tre Aglaia Pezzato Tim Veneto in quattro in cinque Veronica Lucchese Notoli Nuoto in sei Katia Cagnato Veneto Banca Montebelluna in sette Giulia Gian Corona Ralinante Sadria Monfalcone in otto Emma Zecchinato stile libero Lucia Martelli intanto uno zero due e quarantadue per la vittoria della batteria Grazie a tutti i miei